collars 500 grams almeno di prima non si capisce perché perché appoggiava quello lì appoggiava qua barbell 20 kg bumper 10 kg bumper 1.25 kg color number one color number two bumper 10 kg bumper 1.25 kg color number one color number two ok che siamo che siamo insomma ora mi appoggio qua perché sennò aspetta però non è in quel caso telecomando vai partiti bello vai 3 4 5 6 7 vai 8 9 vai ultimo 10 10 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 vai con la calma per la calma porta più indietro bilanciera che stai uscendo un po' vieni 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 ancora un po' se vuoi ok vai 1 2 3 4 5 bravo per la calma 6 vai 7 6 6 poco dopo la metà vai con calma 7 7 7 vai 8 9 ultimo 10 10 2 minuti 2 minuti riporta dentro è ok 1 2 3 4 5 6 7 8 6 si va bene 5 ultimo ok non lanciarlo non farlo dare così avanti perché se lo lasci andare così esce dall'inquadratura ok 10 secondi 5 secondi 3 2 1 puoi andare 1 2 3 4 vai 5 6 7 8 8 10 10 10 10 10 18 8 9 10 20 dai 12 12 3 2 2 Un'ora, tre. Sette, otto, nove, dieci, dai, dai, metto, undici, dai l'ultimo, vai, bravo, dodici. Dai, quattro, cinque overhead, senza fermarti, senza fermarti, trenta secondi, dai, uno, due, vai, vai, tre, venti secondi ancora, quattro, bello, dai. Dai, quindici, cinque, dai, cacciatene due almeno, dai, dai, cinque secondi. Dai, uno, subito giusto.